I colleghi Vincenzo della Corte e Anna Musolino, che vi parleranno dell'esperimento Duster, che è un esperimento che vola su pallone stratosferico, quindi sempre con interesse extraterrestre e astrobiologico, ma qualcosa che si utilizza il materiale che viene verso la Terra, piuttosto che noi dalla Terra andare fuori nello spazio. Do la parola a Vincenzo, prego Vincenzo. Salve, buongiorno a tutti, sono Vincenzo della Corte e sono al momento primo tecnologo all'Istituto Nazionale di Astrofisica qui allo IAPSA di Roma, ma nel passato e durante tutte le evoluzioni di Duster sono stato anche ricercatore all'Università Partenope. Vi parlerò di Duster che è uno strumento, più che uno strumento diciamo è un programma per la raccorta e analisi di materiale extraterrestre che ormai è quasi maggiorenne, ha quasi 18 anni a partire dalla fase iniziale e di ideazione dello strumento. E come Cardini ha sempre avuto la professoressa Radotundi che è, diciamo così, rimasta sempre all'interno del team, ne ha proposto l'idea e seguito gli sviluppi. Qual è il background per il quale si è pensato di realizzare e sfruttare Duster? È da un po' di tempo noto e misurati con strumenti da remoto e anche in situ la presenza di polvere extraterrestre nell'alta stratosfera. Polvere dovuta all'ingresso di meteore, meteoroidi e anche polveri interstellari che possono entrare all'interno dell'atmosfera quando la Terra attraversa i flussi che ci sono durante il... mentre percorre la sua orbita. Rispetto alle misure che sono state fatte sia da remoto tramite LIDAR oppure in situ tramite Optical Counter, Duster aggiunge a queste misure delle prove fisiche, nel senso che va a raccogliere questa polvere per poi essere analizzata in laboratorio. Considerate che annualmente nell'atmosfera entrano circa 30.000 tonnellate di materiale extraterrestre e quindi questa raccolta, il punto e il posto più semplice dove andare a raccogliere materiale extraterrestre è sicuramente l'alta stratosfera. Alta stratosfera perché lì sicuramente la contaminazione terrestre umana è molto bassa e la maggior parte del materiale che si ritrova dovrà essere di origine extraterrestre. Quindi quali sono le caratteristiche e i requisiti richiesti a uno strumento come Duster che ha come scopo quello di campionare queste particelle. Il principale requisito e quello intorno a cui poi è stato sviluppato il disegno e la realizzazione dello strumento è quello di raccogliere particelle incontaminate in stratosfera e poi per poterle poi utilizzare con gli strumenti all'avanguardia che sono presenti nei laboratori a terra. Perché per quanto la strumentazione spaziale e per esplorazione robotica possa essere all'avanguardia dal punto di vista tecnologico, ha sempre delle limitazioni dovute al fatto che le risorse per gli strumenti di emissione spaziali sono sempre e comunque limitate. Quindi la possibilità di analizzare questi materiali in laboratori terrestri permette, amplia moltissimo quello che possono essere il campo di indagine e la risoluzione sulle immagini. Ulteriori richieste per uno strumento come Duster è quello di riuscire a misurare, di sicuro di riuscire a raccogliere particelle che hanno dimensioni tra i 200 nanometri e 40 micron e poi vi spiegherò perché è molto importante la parte di 200 nanometri, che sia capace di raccogliere queste particelle ad altitudini che siano comprese tra i 30 e i 40 chilometri e questo principalmente per il fatto che nello stato più alto della stratosfera la componente umana di contaminazione è molto più bassa, che abbia bassi costi dal punto di vista sia della realizzazione che della manutenzione. Questo per essere pronto ed essere capace di essere pronto a volare quanto appena se ne presenta l'opportunità, perché avere uno strumento che sia semplice da realizzare, che costi poco, permette di avere molte più opportunità per essere pronti a volare e che possa essere utilizzato nelle più svariate configurazioni, da solo, con altri strumenti, attaccato a uno strumento più grande. Tutte queste richieste di flessibilità hanno fatto sì che lo strumento pian piano evolvesse fino ad arrivare più o meno a una forma che è quella che vi descrivo adesso. Come vi dicevo, uno dei punti principali è quello, per quanto riguarda Duster, della capacità di raccogliere particelle estremamente piccole. Il nostro limite, diciamo così, di raccolta inferiore è dell'ordine delle centinaia di nanometri, più che per una reale limitazione dello strumento di raccogliere anche quelle più piccole, è più legato al fatto di riuscire a riconoscere particelle più piccole di queste dimensioni. Ma anche le centinaia di nanometri sono un limite molto molto importante perché soprattutto va ad aggiungere informazioni rispetto a quelle che sono le altre raccolte di particelle nella stratosfera che vengono fatte, che sono fatte fondamentalmente dalla NASA con aerei stratosferici oppure a terra direttamente raccogliendo micrometoriti. Qual è la differenza? Sia per quanto riguarda la raccolta a terra e sicuramente nelle dimensioni perché particelle così piccole non sono né riconoscibili né identificabili e quindi non raccogliibili. Per quanto riguarda le raccolte stratosfera, le raccolte della NASA hanno una grossa limitazione per il metodo che viene utilizzato per la raccolta. Le raccoglono con aerei stratosferici che di principio non possono andare a quote più alte dei 20-22 km, ma che hanno un sistema di raccolta che è molto diverso, che fa sì che tagli tutte le particelle che sono più piccole di qualche micro. Perché dal punto di vista scientifico invece sono così importanti queste particelle? Perché queste particelle sono nel range dimensionale che è quello delle particelle intestellari, che sono quelle più interessanti dal punto di vista scientifico. Inoltre quelle più piccole sono sicuramente quelle che sono più numerose nella stratosfera e quindi aumenta la possibilità di essere raccolte e soprattutto quelle più piccole quando rientrano in stratosfera dovrebbero essere quelle meno termicamente alterate dal processo dall'attrito con l'atmosfera che si ha quando una particella interplanetaria entra nell'atmosfera. Inoltre dalle misure da remoto si è visto che i meteoroidi che entrano nell'atmosfera vengono in qualche modo consumati, ablati, esplodono e quello che si produce è una polvere molto più fine. Quindi anche per quanto riguarda l'entrata di oggetti più grandi, raccogliere particelle più piccole significa prendere quello che rimane dal processo di ablazione o esplosione al rientro in atmosfera. Dove agisce Duster rispetto a quanto già fatto nelle raccolte in stratosfera? Per come è disegnato e per come è stato realizzato e per le performance che è realizzato va a coprire un'area di raccolta per quanto riguarda dimensioni e soprattutto quota di raccolta molto molto diversa rispetto alle altre raccolte fatte in stratosfera. Abbiamo un range dimensionale che è molto più ampio rispetto alle raccolte fatte precedentemente ma soprattutto siamo in grado di raccogliere a quote più alte, cosa che soprattutto per le prime raccolte di Duster è stata molto importante perché siamo riusciti a raggiungere quota intorno ai 40 km. Come si è sviluppato il disegno dello strumento? L'idea era quella di avere un sistema che raccogliesse in modo attivo le particelle che in qualche modo galleggiano alle quote a cui viene portato dal pallone, che fosse raccolto con una bassa velocità di impatto per non modificare o distruggere le particelle e per far sì che le particelle più piccole non venissero, diciamo così, deviate dall'aria e per tutto questo si è utilizzato il principio della separazione inerziale. In pratica abbiamo un sistema di campionamento costituito da delle pompe che creano un flusso d'aria e un sistema di raccolta che è un ostacolo all'interno di questo flusso d'aria. Le particelle che sono trasportate dal flusso d'aria quando incontrano l'ostacolo invece che seguire il flusso e quindi girare intorno all'ostacolo si depositano gentilmente su questa superficie senza la necessità di avere un adesivo o un qualcosa che le catturi ma semplicemente le particelle si depositano sulla superficie e poi essendo così piccole in pratica rimangono collegate a questa superficie fondamentalmente per effetti superficiali di interazione tra una particolare così piccola e il substrato di raccolta. Questo è il principio di raccolta ma un altro scopo dello strumento era quello di avere un substrato che fosse utilizzabile per tutte le misure che volevano essere fatte in laboratorio. Quindi il secondo passo è stato quello del disegno e realizzazione di un substrato di raccolta che fosse fatto appositamente per questo strumento e nello sviluppo, nei vari sviluppi i substrati di raccolta hanno anche loro subito una serie di evoluzioni perché si è partito da un disegno abbastanza complicato che prevedeva una superficie in oro con dei fori per posizionare le grigliette TEM che poi erano bloccate internamente che ha funzionato nel senso che ha raccolto le particelle ma che era molto difficile da gestire ed è il sistema di raccolta rappresentato a sinistra e piano piano si è evoluto verso un sistema molto più semplice ancora che però si è dimostrato molto più efficace perché quello che è il vero elemento di raccolta che è una griglietta per microscopia elettronica è molto facile da rimuovere e può essere facilmente utilizzato con più tecniche di misura e sotto diversi strumenti di laboratorio quindi siamo passati dalla configurazione del 2008 a una configurazione del 2009-2021 che ha sempre subito delle modifiche perché si può sempre migliorare ma che è fondamentalmente costituita da una serie di dischetti impilati all'interno dei quali vengono ospitate le grigliette TEM che poi sono l'elemento principale su cui le particelle si depositano durante la raccolta questo per quanto riguarda il substrato di raccolta poi ci è passati a disegnare tecnicamente disegnare e realizzare quello che è lo strumento partendo da alcune performance fondamentali cioè quanto vogliamo campionare di atmosfera quanto vogliamo essere grandi e soprattutto quanto vogliamo consumare sul quanto vogliamo essere grandi e pesanti e quanto consumare si è cercato di limitare il tutto il più possibile ottenendo quindi alla fine uno strumento abbastanza compatto perché è circa 40x30x30 cm con un peso abbastanza limitato perché stiamo parlando dell'ordine di 15 kg e con un consumo di potenza molto basso perché stiamo parlando di intorno ai 15 watt diciamo che per quanto riguarda pesi, consumi e ingombri parliamo di caratteristiche simili a quelle che possono essere uno strumento spaziale sebbene realizzato in modo molto più semplice e con componentistica che non è prettamente spaziale ma che comunque garantisce delle buone performance il cuore dello strumento è il sistema di campionamento il sistema di campionamento è costituito da una camera di raccolta e da un sistema di pompe attive che permette la realizzazione del flusso all'interno della camera nella figura in basso, non so se è riuscito a vedere forse, ecco, adesso dovreste riuscire a vedere anche il... no nella figura in basso, in questa parte il gruppo di pompe che è costituito da 6 diverse micropompe che sono estremamente piccole ma che insieme riescono a garantire un flusso di circa un metro cubo di aria all'ora e da una camera di raccolta che viene sigillata mediante due valvole da ultra alto vuoto all'inizio e alla fine in modo da tenere la parte principale dello strumento che è quella dove i campioni vengono raccolti sigillate quando lo strumento non è in campionamento attivo dal disegno si è passata alla realizzazione e quello che vedete nella figura in basso a destra è la configurazione che ha affrontato praticamente tutti i voli da partire dal 2008 qualche pezzo è cambiato perché non sempre le campagne sono andate bene qualche volta qualcosa si è rotto però alla fine la configurazione dello strumento è rimasta quella che è qui rappresentata nella figura in basso a destra l'elemento principale di tutta la parte meccanica è la camera di raccolta la camera di raccolta è realizzata mediante componentistica da ultra alto vuoto perché quello che è fondamentale è garantire una chiusura e che la camera di raccolta possa essere sigillata nel modo migliore possibile e per questo sono stato scelto di utilizzare uno standard di ultra alto vuoto con guarnizioni esclusivamente metalliche per far sì che non ci sia nessun elemento che possa contaminare il campione anche quando la camera è chiusa quindi la camera è realizzata da 4 componenti d'altro vuoto che vengono assemblate costituendo una camera principale all'interno del quale è posto il portacampioni che è questa parte in rosso e una camera secondaria che serve da monitor in pratica nella camera principale abbiamo un portacampioni nella camera secondaria che è rappresentata nella parte con il numero 4 c'è un ulteriore portacampioni che ha esattamente la stessa forma e dimensione di quelle su cui vengono raccolti direttamente i campioni ma che non è direttamente esposto al flusso delle particelle la funzione fondamentale di questa seconda parte è quella di monitorare la possibile contaminazione dei campioni dovute a un qualsiasi avvenimento sia durante l'assemblaggio dello strumento sia durante il campionamento siccome questa camera non è direttamente esposta al flusso delle particelle consideriamo che tutto quello che si deposita sul portacampioni in questa camera è contaminazione e eliminiamo dal portacampioni invece esposto direttamente al flusso d'aria tutto quello che in qualche modo somiglia è analogo alla stessa composizione o alla stessa morfologia a quello che troviamo su questo elemento di controllo in basso è rappresentato quello che è il sistema di sostegno al quale viene collegato il portacampioni sul quale si depositano le particelle come realizziamo il controllo di contaminazione? un primo passo è quello di avere un sistema di raccolta che viene sigillato a terra si apre soltanto in alta stratosfera e si richiude prima di ritornare a terra tutto fatto con sistema di ultra alto vuoto ma anche nelle operazioni a terra è posta massima attenzione alla contaminazione quindi lo strumento, le parti principali dello strumento vengono assemblate in camera bianca c'è un controllo accurato delle superfici di raccolta prima che queste vengono inserite all'interno dello strumento mediante analisi e imaging ad alta risoluzione con microscopio elettronico ma di questo in dettaglio ve ne parlerà Anna e in particolare l'utilizzo di un supporto di controllo che ci permette di controllare quanta contaminazione può accadere sullo strumento è un altro elemento che ulteriormente permette il controllo della contaminazione e tra l'altro la funzionalità e la possibilità che questo sistema funzioni è stato ai noi verificato durante una delle campagne andate male in cui c'è stata contaminazione e di questa contaminazione ci siamo accorti esattamente utilizzando le analisi che abbiamo fatto sul blanket ed è la campagna del 2019 che era andata perfettamente durante il volo ma che ha avuto un problema durante l'atterraggio e nei giorni successivi all'atterraggio c'è stato un incendio l'incendio è stato estremamente diciamo così ha distrutto praticamente il pelo principale noi in qualche modo abbiamo resistito ma i campioni sono stati contaminati e di questa contaminazione ce ne siamo accorti tramite l'analisi del blanket oltre a studiare e sviluppare lo strumento in una delle campagne abbiamo provato anche a gestire completamente lo strumento gestendo anche la campagna di volo e di realizzazione del volo ed è stata durante la campagna in Antartide in realtà la partenza e quindi abbiamo realizzato sia il sistema di collegamento al pallone sia la gestione del pallone il gonfiaggio del pallone sia il monitoraggio della posizione dello strumento sia tutte le fasi di lancio del pallone e anche in questo caso diciamo che è andato quasi tutto bene purtroppo almeno fino al decollo del pallone purtroppo poi c'è stata una failure del pallone e abbiamo perso il volo e diciamo così sebbene ci sia stato un atterraggio gentile il recupero è stato fatto dopo alcuni giorni e quello che abbiamo ottenuto dello strumento è questo in cui lo strumento è praticamente rimasto completamente distrutto tranne quello che era il corpo centrale di raccolta ad ulteriore verifica che questo disegno e questa configurazione è quella che ha permesso e permette di preservare i campioni tornando indietro come riassunto di quelle che sono le campagne di volo fatte dallo strumento lo strumento in pratica vola dal 2006 e durante questo periodo ha effettuato sette campagne variamente divise tra zone in cui sono state fatte e anni in cui sono state fatte abbiamo avuto una campagna di qualifica da Chiruna nel 2006 in cui ha volato una configurazione leggermente diversa dello strumento ma in cui è stato soltanto diciamo così validato il principio senza raccolta di particelle nel 2008 abbiamo volato dalle Sbalbard così come nel 2009 nel 2011 di nuovo da Chiruna con il CNES nel 2017 c'è stato il volo fallito dall'Antartide e poi ancora nel 2019 e 2021 due nuove campagne in questo caso non con il CNES ma con SSC che è una società svedese che gestisce palloni nel 2008 abbiamo raccolto particelle nel 2009 le abbiamo raccolte ma purtroppo la maggior parte delle analisi ha dimostrato che i campioni erano contaminati e quindi non si è giunti a una conclusione sul tipo di raccolta nel 2011 abbiamo raccolto con anche una sorpresa biologica di Parleranna nel 2017 purtroppo il volo è fallito nel 2019 e 2021 che sono gli ultimi due voli abbiamo avuto notevoli risultati dal punto di vista della raccolta con questo io concludo e lascio la parola ad Anna eccomi adesso provo a condividere ditemi cosa vedete mi sentite? si si vede la presentazione ok perfetto senza intoppi di nessun tipo allora salve a tutti io sono Anna Musolino una borsista dell'istituto di astrofisica e planetologia spaziali di Roma faccio parte di questo progetto adesso vi parlo un po' di quelle che sono i risultati che abbiamo ottenuto grazie a Duster questo è un po' un recap di quello che stava dicendo anche Vincenzo un aspetto interessante sotto il neve è che questi lanci avrete notati da altre latitudini questo è un problema dovuto al fatto che spesso i palloni prendono in carico anche dei payload che sono molto pesanti che possono pesare anche tonnellate quindi c'è un problema di sicurezza che bisogna tenere in considerazione quindi Duster ha volato dalla Lapponia Svelese dalle Svalbard e dall'Antartide adesso vi faccio vedere alcune delle foto delle campagne di Duster se ci riesco eccole dal 2008-2009 alle Svalbard in Antartide nel 2017 a Chiruna nel 2019 e l'ultima campagna di lancio nel 2021 a cui ho avuto anche l'opportunità di partecipare riassumendo i risultati quello che abbiamo ottenuto da queste campagne di lancio abbiamo che delle otto totali campagne di lancio quattro hanno avuto successo in queste quattro siamo stati in grado di raccogliere in tutto 342 particelle è interessante notare come la maggior parte delle particelle siano state raccolte negli ultimi anni nonostante i voli il tempo di campionamento di questi voli sia decisamente minore rispetto alle prime campagne questo è dovuto proprio al discorso che stava facendo Vincenzo Duster è cambiato nel corso del tempo è diventato molto più efficace nel raccoglimento delle particelle e questi ne sono i risultati una domanda che potremmo farci è ok possiamo dire che Duster è in grado di raccogliere particelle a una determinata altitudine e questo lo possiamo fare grazie al fatto che esistono delle valvole che possiamo aprire e chiudere da rimoto quando ci troviamo all'altezza giusta tra i 30 e i 40 km ma come possiamo escludere quello che c'era già prima io ho messo nelle griglie al di sopra dello strumento Duster ha volato ha raccolto ritorno indietro però si potrebbe obiettare che esistono che le particelle erano già presenti in partenza possiamo eliminare questo fattore di contaminazione tramite delle scansioni che facciamo a tutte le griglie del collector e del blank prima e dopo il volo queste scansioni vengono fatte al microscopio elettronico a scansione qui alla destra alla sinistra vedete lo strumento mentre sulla destra vedete il collector e il blank che vengono montati all'interno dello strumento quello che viene fatto è questo facciamo delle immagini ad alta risoluzione di tutte le griglie presenti all'interno di collector e blank le immagini sono ad alta risoluzione quindi immaginate prendiamo tante piccole immagini che poi mettiamo insieme per ottenere come risultato un'immagine di questo tipo adesso voi non lo potete vedere però da queste immagini si possono ricavare molte informazioni perché riesco ad ottenere degli ingrandimenti molto elevati e riuscire a discriminare se delle particelle anche estremamente piccole prima non c'erano e dopo il lancio ci sono questa operazione quindi viene fatta prima del lancio e subito dopo il lancio per farvi per dare un'idea di come effettivamente le vado a identificare come vado a individuare queste nuove particelle questo è un esempio di una dei riguadri presenti all'interno della griglia uno di questi uno di questi che sono qui presenti questa è l'immagine prima e questa è l'immagine dopo adesso questo è un caso abbastanza evidente la particella che è caduta sopra la griglia ha letteralmente spaccato il foglio che era sottostante e vedremo dopo che questa è una realtà delle particelle non tra le più grandi però delle dimensioni relativamente grandi rispetto alla media delle particelle che troviamo il vantaggio di utilizzare il SEM è che ci permette al di là di fare queste scansioni che ci aiutano per l'identificazione delle particelle nuove anche di ottenere delle immagini ad alta risoluzione e dall'immagine ad alta risoluzione abbiamo un'informazione sulle dimensioni e quindi ci aiutano ad avere un'informazione sulla analisi statistica sulla distribuzione delle dimensioni delle particelle raccolte quindi quali sono una volta che abbiamo siamo in grado di dire ok queste particelle prima non c'erano ci sono le valvole le abbiamo aperte soltanto tra i 30 e i 40 chilometri quindi le abbiamo raccolte per forza a quell'altezza che cosa dobbiamo fare le abbiamo identificate comparando le immagini prima e dopo una volta identificate vengono acquisite delle immagini ad alta risoluzione a formare un catalogo a questo punto l'idea è quella di fare una classificazione delle particelle che può essere una classificazione morfologica preferibilmente una classificazione chimica quindi lo step successivo è di avere un'informazione sulla chimica la mineologia e ancora meglio la composizione isotopica delle particelle raccolte questo è un altro esempio di una delle particelle individuate forse la riuscite già a individuare anche voi abbastanza grande il vantaggio di Sovel Sam è quello che si possono ottenere delle immagini ad altissima risoluzione e abbiamo dei dettagli di superficie che possono anche essere importanti per comprendere l'origine delle particelle stesse quindi non soltanto belle da vedere ma anche interessanti da un punto di vista scientifico scusate il vantaggio di usare il Sam è anche perché riusciamo ad andare molto a ottenere delle ingrandimenti molto elevati fino a 300.000 ingrandimenti questa è una particella estremamente piccola questi scontate che questi sono 200 nanometri quindi andiamo veramente su particelle che sono di piccolissime dimensioni come anche accennava Vincenzo qui vi faccio vedere una serie di particelle raccolte da Duster nel 2019 proprio per farvi apprezzare la diversità di quello che riusciamo a trovare e sono state queste sono del penultimo lancio di Duster prima vi accennavo le dimensioni ma per farvi capire appieno quanto sono piccole queste particelle vi faccio vedere qualche grafico contate che da qui abbiamo da 0 54 micrometri nei lanci del 2008 2011 2019 2021 la maggior parte delle particelle sono concentrate proprio tra 0.5 e pochi micrometri di solito 0.5 e 2 micrometri collettivamente abbiamo questo se vi ricordate la particella che vi ho fatto vedere all'inizio quella che spaccava la griglia che spaccava proprio la griglia quella in realtà si trova qui in fondo quindi è relativamente grande rispetto alla media mentre la seconda che vi ho fatta vedere è un po' più piccola un po' più nella media adesso vi faccio vedere invece quelli che sono un po' i risultati delle prime campagne di Duster innanzitutto una classificazione mineralogica delle particelle individuate e quali tipo di implicazioni possiamo fare sulla loro origine scusate di nuovo prenderò in considerazione le campagne di lancio 2008 2009 e 2011 in particolar modo per quanto riguarda il 2008 una classificazione mineralogica delle particelle ci mostra come abbiamo minerali tipo aluminosilicati quello che potete comprendere da queste immagini è che nonostante la somiglianza delle particelle dal punto di vista mineralogico ritroviamo delle morfologie molto diverse tra di loro qui abbiamo delle particelle a base di carbonio e ossigeno delle particelle carbonatiche delle altre particelle a base di carbonio molto interessanti in questo caso anche dal punto di vista morfologico perché presentano nelle tessiture una morfologia che è tipica di un materiale che ha raggiunto delle temperature elevate e che ha condensato molto rapidamente una condensazione da una fase liquida a vapore a una fase solida questo insieme a un altro dettaglio il fatto che è stato osservato che le particelle cambiano nel tempo cambiano nel tempo e questo implica che sono delle particelle metastabili che si sono venute a formare in delle condizioni di temperatura diverse da quelli della superficie terrestre queste due informazioni puntano verso uno stesso percorso che si devono essere formate o sono state processate ad alte temperature queste alte temperature le hanno portate a raffreddarsi molto velocemente e questo già incomincia a farci pensare perché questo tipo di processo è difficilmente spiegabile in un ambiente di tipo terrestre fa pensare invece a qualcosa che viene dal di fuori dell'atmosfera terrestre che viene rallentato aumenta le temperature nella discesa in atmosfera e quindi a qualcosa di extraterrestre a favore di questa ipotesi è anche il fatto che se c'è una contaminazione di tipo terrestre per la maggior parte dei casi se è una contaminazione antropica si tratta di delle sferole di ossidi d'alluminio quindi una composizione non di materiale carbonioso come queste che abbiamo visto nella campagna del 2008 ma anche se è una contaminazione di origine terrestre ma naturale spesso si tratta di materiale di origine vulcanico che comunque con molta difficoltà riuscirebbe a raggiungere delle altezze così elevate dove abbiamo campionato queste particelle che sono maggiori di 37 km una possibile spiegazione sull'origine delle particelle raccolte nel 2008 è che siano il risultato di una frammentazione di un corpo exterrestre pensate ad un volide che attraversa l'atmosfera terrestre con originariamente una composizione carboniosa che può essere un frammento di origine asteroidale o cometario andiamo avanti con le particelle che ha raccolto Duster con la campagna del 2011 ancora qui abbiamo delle particelle alluminosilicati le particelle silicate che ancora osserviamo un trend di morfologicamente potete notare che da quelle più in alto a sinistra a quelle in basso a destra c'è una tendenza ad avere una tessitura di rapido raffreddamento come queste alte temperature e rapido raffreddamento come queste particelle in basso a destra qui altre particelle sempre raccolte nel 2011 ma la cosa più interessante raccolta nel 2011 che ha stupito guardate bene l'immagine a sinistra è la presenza di una spora questa è una spora che da delle analisi morfologiche è stata classificata come appartenente alle specie di Cladosporio merbarum o Scupulariopsis che è un patogeno di delle piante e che è stato un ospite inaspettato di Duster diciamo perché come dicevo prima siamo ad altezze maggiori di 37 chilometri quindi bisogna cercare di capire come esattamente questa spora sia arrivata così in alto potrebbe potrebbe essere dovuta sia a fenomeni naturali come possiamo pensare a un'erozione volcanica o altrimenti anche per un fattore antropico antropico diciamo i palloni stessi possono in teoria aumentare il contenuto di particelle dalla parte più superficiale fino alla stratosfera scusate nel 2009 come diceva Vincenzo è l'esperimento fallito perché ne parlo ne parlo perché è interessante perché nonostante Duster non abbia raggiunto il suo obiettivo che era quello di campionare materiale ad alta quota probabilmente raccolto delle particelle e almeno tutto era andava regolarmente fino a quando al momento dell'atterraggio il payload ha subito un incendio che ha portato alla distruzione di quasi tutti gli strumenti che erano presenti tranne uno dei pochi era Duster tuttavia come accennava Vincenzo nel blank avevamo ritrovato molte particelle di quelle che ci saremmo dovuti aspettare motivo che ha fatto pensare una contaminazione interna all'interno dello strumento questo è stato interessante comunque perché anche se Duster non aveva raggiunto il suo obiettivo è stato possibile fare delle considerazioni sulla formazione perché delle particelle interne c'è probabilmente Duster ha fatto quello che doveva fare ha raccolto delle particelle in stratosfera queste particelle durante l'incendio che c'è stato una volta avvenuto l'atterraggio devono essere sottoposte da temperature così alte che hanno permesso di fare delle osservazioni sulle condizioni di formazione delle particelle nel corso dei processi come ad esempio frammentazione di un volide in entrata o particelle in ambienti di formazione come nubi incandescenti quindi anche da un risultato negativo siamo riusciti a ricavare delle informazioni interessanti in conclusione cosa abbiamo detto con Duster siamo stati in grado di raccogliere particelle incontaminate nella stratosfera terrestre non soltanto particelle inorganiche ma anche particelle organiche questo è importante perché da essere l'unico a farlo in questa maniera lo step successivo è quello di identificare ciò che è extraterrestre da ciò che non lo è scusate bevo un attimo scusate ci sono una prima possibilità è quella di fare una distinzione tra morfologica qui potete osservare in alto un interplanetary dust particle che è una particella di origine come Darya in basso una particella raccolta da Duster nel 2021 praticamente sono molto simili tra loro e siamo molto propensi a pensare che si tratti di una particella di origine come Darya anche la nostra un caso analogo è la micrometeorite raccolta da Duster nel 2019 guardate quelle in alto sono le micrometeorite raccolte da scusate sono delle micrometeorite raccolte da dei sedimenti di origine marine sulla terra quella in basso è stata raccolta da Duster nel 2019 quindi la morfologia è un fattore importante ma poi fondamentali sono l'analisi chimica e soprattutto l'analisi della composizione soprattutto se vogliamo cercare di determinare qual è la sorgente extraterrestre dalla quale si sono venuti a formare le particelle infine concludo con quello che in realtà è un grande problema di tutti coloro che si trovano a manipolare materiale di piccolissime dimensioni soprattutto se non vogliamo contaminare il materiale Duster è andato incontro spesso a questo problema forse si può risolvere con l'utilizzo di nuove tecnologie come ad esempio quelli che vengono detti optical twisters che sono le pinzette ottiche Duster è anche in collaborazione con un progetto con il progetto space twisters che vuole proprio utilizzare pinzette ottiche associate a spettroscopia Raman per microfoni volare utilizzando fasci laser particelle molto piccole e allo stesso tempo analizzarle poter analizzare le particelle di Duster con questa tecnica potrebbe portare a dei risultati molto interessanti concludo dicendo che se siete interessati al progetto è possibile seguire tutti gli aggiornamenti di Duster sulla nostra pagina Twitter grazie a tutti per l'attenzione grazie a tutti